Luca Castagnoli Ruolo? Centrocampista C'è un giocatore a cui ti ispiri e a cui vorresti somigliare? Kevin De Bruyne Perché? Perché ha classe e ha gran tecnica Qual è il compagno di scuola che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Lori Baldi e Jack Drady Quali pensi che siano i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? I miei pregi, la tecnica, la determinazione e i difetti fisico C'è uno sport che segui oltre il calcio? Il pallavolo Il basco Hai un numero di maglia preferito? L'otto Perché? Perché è il numero di centrocampista che ha classe La materia scolastica che ti piace di più dopo la ginnastica? Matematica Perché scuola tifi? Mila Che cosa rappresenta per te questa esperienza nel Ravenna? Un'occasione per mettermi in mostra in un gran campionato Grazie a tutti! Grazie a tutti.